La diciassettesima edizione di ExpoBit, il Salone Internazionale dell'Innovazione Tecnologica, è stata presentata oggi al Comune di Catania. Dal 22 al 25 novembre ExpoBit trasformerà il Centro Culturale delle Ciminiere nella realtà etic del futuro. Quattro giorni interamente dedicati alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, riservato agli operatori del settore etic. ExpoBit 2012 propone un calendario ricco di appuntamenti con contenuti di alto livello, rivolti alle imprese, utenti e pubbliche amministrazioni. Alla conferenza stampa sono state presentate in anteprima tutte le novità delle varie aree espositive, Expo Medicina, Percorsi Innovativi, Sudweb Expo Digital Print. Quest'anno la novità più importante è l'area dedicata al web, soprattutto per quanto riguarda l'informazione. Questa è un'area in cui sanno presenti i maggiori competitor in campo regionale e nazionale e devo anche sottolineare la presenza dell'accordo che abbiamo realizzato con il forum OPA, il forum della pubblica amministrazione, che si svolge, come voi sapete, ogni anno a Roma. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che per far questo è importante anche rafforzare le reti con i territori più virtuosi. La scorsa settimana abbiamo fatto un grande evento a Bologna dal titolo delle Smart City, cioè le città intelligenti. Questa collaborazione con Catania e con ExpoBit serve proprio a questo, a rafforzare anche le reti nel sud, ma soprattutto una provincia molto attiva e che negli anni è stata capace di sviluppare un sistema locale dell'innovazione molto competitivo. Sicuramente è importante per innovare la pubblica amministrazione a cominciare dalla Sicilia pensare a governare il territorio coinvolgendo i cittadini. Questo penso che sia l'imperativo importante per l'innovazione. Non pensare all'innovazione solo tecnologica, ma anche un nuovo rapporto con il territorio e con i cittadini stessi. Speriamo che la Sicilia, anche all'interno di un nuovo quadro, con questo momento politico, di una fase nuova progettuale, faccia proprio questo concetto di innovazione.